quest'anno il regalo è di seconda mano a reimpacchettare il dono non gradito magari di qualche anno prima e a rimetterlo sotto l'albero pare sia un italiano su tre da un sondaggio della camera di commercio di milano sarà un natale sotto tono non soltanto nella metropoli lombarda dove si taglierà soprattutto sui viaggi ma anche a roma e a napoli qui invece si risparmierà sulla tavola